Radio Città Futura Le conseguenze di Piazza Fontana sono state devastanti per l'Italia. Noi non avremmo avuto il terrorismo senza Piazza Fontana. Gli anni più oscuri della Repubblica cominciarono il 12 dicembre del 69, ricorda Marco Tullio Giordana, quando esplosero le bombe di Piazza Fontana, uccidendo 17 persone. Romanzo di una strage racconta quel pezzo di storia, il clima, i personaggi, la verità, dice il regista. C'è una verità, ma è stata continuamente sepolta. Non si è voluto arrivare alla verità, non se ne è saputo nulla. E oggi ci sono molti ragazzi che, la parola Piazza Fontana, cascano dalle nuvole. L'anarchico Pinelli, morto in questura in circostanze mai chiarite, è Pierfrancesco Favino. Sono molto legato a questo personaggio qua, per affascinazione personale nei confronti di tutte le storie che raccontano in generale di uomini, in normali, non eroi. Poi la storia invece in qualche modo fa diventare tale. Il commissario Calabresi che diresse le indagini è Valerio Mastandrea. Lui è uno che viene anche lasciato solo. Nel momento in cui ha un richiamo all'ordine, che è quello di tenere la bocca chiusa o comunque di non farsi domande, lì ritorna l'uomo di Stato, l'uomo dello Stato che crede in quello che fa, poi subito dopo muore. Ed è sul suo omicidio che si chiude il romanzo di una strage.